no green pass salta il sit in di protesta alla stazione di pesaro nuovo furto in appartamento in zona mare ladre arrestate dalla polizia covid arriva nei tamponi salivari a scuola a gabice il camper dei vaccini conf commercio presenta la 38esima edizione dei weekend gastronomici d'autunno una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo della mancata manifestazione che era stata annunciata per oggi anche alla stazione di pesaro da parte dei no green pass un sit in di protesta per dire no alla certificazione verde obbligatoria per i trasporti che però contrariamente a quanto previsto non ha avuto luogo vediamo quindi le immagini registrate qualche ora fa proprio alla stazione di pesaro l'annunciato pomeriggio di sit in e proteste da parte dei no green pass per dire no alla certificazione verde che aveva interessato anche la stazione di pesaro alla fine non c'è stato situazione comune anche nel resto del paese le manifestazioni attese in oltre 50 stazioni ferroviarie d'italia per dire no alla certificazione verde nella giornata in cui questa diventa obbligatoria per i trasporti a lunga percorrenza e quindi per treni ad alta velocità aerei o navi hanno registrato una partecipazione pressoché assente a pesaro l'arrivo dei manifestanti era atteso a partire dalle 14 diverse unità di polizia già dalla tarda mattinata erano schierate sul posto per monitorare l'andamento della situazione circa una ventina gli agenti pronti ad intervenire per garantire la corretta circolazione ferroviaria ed evitare eventuali disordini e disagi per tutti i passeggeri in partenza o in arrivo anche la viabilità intorno all'area attenzionata non ha mai registrato criticità o episodi di disordine gli agenti si sono limitati a chiedere i documenti ad un gruppo di ragazzi che stazionava davanti all'edificio i quali però non sono stati identificati come manifestanti la polizia ha sorvegliato l'intero perimetro per diverse ore a transitare sono stati soltanto i viaggiatori gran parte di questi non sembrava essere a conoscenza delle proteste annunciate motivo per il quale si sono registrate discrete affluenza di passeggeri sia in salita che in discesa dai treni diverse contrastanti in ogni caso sono le opinioni registrate tra i presenti in merito all'obbligatorietà del pass e alle contestazioni annunciate ad ogni e come dire ad ogni manifestazione c'è sempre c'è sempre il caos no se volete farmi no una no e una vera e propria manifestazione andate a vaccinarvi è quella la vera manifestazione no fa molto favorevole a questa manifestazione in quanto io sono molto contrario green pass e a tutta questa limitazione della libertà di per ogni minima cosa quindi soprattutto sui mezzi pubblici io chiedo che vengono abolite ecco tutte queste restrizioni soprattutto sui treni alta velocità e vorrei ecco che chiunque sia libero di viaggiare anche sui treni alta velocità intercity io personalmente non devo prenderli spesso però ecco mi vorrei unire a questa manifestazione perché sono ecco favorevole a chi è contrario nel frattempo sono stati aggiunti al programma di sit in promosso dai no green pass altri momenti nei quali i manifestanti potrebbero riunirsi per protestare anche nella stazione pesarese per questo motivo i controlli della polizia nell'area proseguiranno anche nel pomeriggio di domani e nella mattinata di venerdì e si è registrato ieri l'ennesimo furto all'interno di un'abitazione a pesaro episodio che si va quindi ad aggiungere alla lista dei colpi segnalati nelle ultime settimane il fatto è accaduto nel pomeriggio in zona mare quando due donne nomadi di circa 25 anni si sono introdotte all'interno di una palazzina in viale verdi all'interno della casa però si trovava la figlia della proprietaria che si è accorta della presenza delle due quando queste hanno tentato l'ingresso nella camera in cui si trovava la porta chiusa chiave non ha permesso alle ladre di accedere alla stanza e la ragazza accortasi del movimento della maniglia e consapevole che in casa non ci fosse nessuno oltre lei ha subito alertato la madre la quale a sua volta ha immediatamente contattato le forze dell'ordine all'arrivo della polizia le giovani malviventi sono state bloccate dagli agenti mentre si trovavano ancora all'interno del palazzo gli oggetti e i preziosi trafugati sono stati riconsegnati alla proprietaria e le due donne su cui penderebbero altri reati dello stesso tipo sono state arrestate parliamo ancora di cronaca perché i militari della stazione carabinieri forestale di pesaro nelle scorse giornate nel corso di un servizio finalizzato al contrasto delle captazioni abusive di acqua pubblica hanno accertato un punto di prelievo non autorizzato in un tratto del torrente arzilla in località santa maria dell'arzilla del comune di pesaro in particolare i carabinieri forestali hanno riscontrato la presenza di una motopompa munita di tubo ubicata ai margini del torrente e utilizzata per la captazione di acqua dal corpo idrico che veniva poi utilizzata per irrigare gli orti adiacenti quattro i soggetti che si sono resi protagonisti dell'illecito e nei confronti dei quali sono stati elevati verbali amministrativi e una sanzione pecuniaria dai 300 ai 1500 euro che verrà determinata dall'autorità amministrativa competente parliamo ora di sanità perché arrivano nelle scuole per monitorare la circolazione del covid 19 tra gli studenti i tamponi salivari anche nelle marche quindi saranno effettuati in diversi istituti le operazioni di monitoraggio per implementare il tracciamento del virus tra la popolazione scolastica per quanto riguarda i vaccini invece ieri il camper dell'area vasta 1 è arrivato a gabice vediamo il servizio è stato approvato ieri dalla conferenza stato regioni il piano per il monitoraggio della circolazione del covid che introduce i test salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado l'utilizzo a campione dei test eseguiti sulla saliva mette in campo un programma utile per monitorare e ridurre la diffusione del virus rilevazione che punta inoltre a limitare isolamenti quarantene e il ritorno della didattica a distanza anche nelle marche quindi saranno individuati gli istituti sentinella nei quali si effettueranno i test salivari e che saranno presi come riferimento per avere un quadro rappresentativo dell'andamento della pandemia tra la popolazione scolastica regionale la notizia è stata accolta con soddisfazione dagli assessori regionali alla sanità e all'istruzione filippo saltamartini e giorgia latini i quali attraverso una nota hanno affermato che sono in fase di svolgimento gli incontri con i dirigenti scolastici e con l'ufficio scolastico regionale per selezionare le strutture scolastiche interessate dal progetto e per delineare le procedure di raccolta dei test che saranno praticate ogni 15 giorni i due assessori hanno poi ricordato che le marche sono state tra le regioni apripista per l'utilizzo dei tamponi salivari per i quali viene ora richiesta un'estensione che permetta lo svolgimento di screening negli impianti sportivi e l'ottenimento del green pass per quanto riguarda i vaccini invece i dati aggiornati alla fine del mese di agosto segnalano che la percentuale di studenti marchigiani tra i 12 e i 19 anni che hanno completato il ciclo di somministrazioni si attesta al 36 per cento percentuale che sale oltre il 60 se si considerano invece anche i ragazzi che attualmente hanno ricevuto una sola dose sempre sul fronte vaccinazioni ieri pomeriggio il camper dell'area vasta 1 è arrivato a gabice che insieme a gradara e rispetto agli altri comuni della provincia registra il minor numero di immunizzati meno del 60 per cento degli abitanti ha infatti ricevuto la prima dose pioggia e maltempo non hanno comunque fermato le persone presenti in piazza municipio a fine giornata le somministrazioni totali sono state 96 un dato commentato positivamente anche dal sindaco domenico pascuzzi nel frattempo gli aggiornamenti quotidiani relativi ai nuovi contagi riportati dal servizio sanità della regione hanno segnalato che nelle ultime 24 ore sui 3277 tamponi analizzati di cui 1611 nel percorso nuove diagnosi sono stati 169 i nuovi casi di covid 19 registrati nelle marche di questi 52 sono stati riscontrati nella provincia di pesaro urbino torna a crescere inoltre il numero dei ricoveri nelle strutture ospedaliere della regione che dai 79 di ieri sono passati ad essere 87 10 i pazienti in terapia intensiva marche nord uno in più rispetto alla scorsa giornata sempre nelle ultime 24 ore è stato inoltre notificato un nuovo decesso legato al covid è registrato nella provincia di fermo la ripresa dei settori più colpiti dalla pandemia come quello della ristorazione o quello del turismo passa anche per le iniziative di promozione volte a far conoscere le ricchezze del territorio e del suo introterra obiettivi su cui si è costruita l'organizzazione della 38esima edizione dei weekend gastronomici d'autunno di conf commercio vediamo 30 località 45 ristoranti e 38 edizioni per una delle iniziative più importanti e longeve organizzate da conf commercio tornano dal 18 settembre i weekend gastronomici d'autunno appuntamenti volti a promuovere le tavole dell'entroterra della provincia progetto che però non si limita unicamente al settore della ristorazione visto che anche nella guida 2021 saranno presenti informazioni e curiosità utili per far conoscere e visitare i borghi e i territori che compongono l'itinerario culinario è la 38esima edizione per cui sono 38 anni di un progetto che sicuramente il più longevo nel panorama regionale degli eventi turistici degli eventi e no gastronomici e peraltro è un evento che coincide con la ripartenza che noi auspichiamo ripartiamo insieme lo slogan della conf commercio per il 2021 e in questo caso ripartiamo insieme ai weekend gastronomici con conf commercio 45 ristoranti partecipano iniziativa ed è un gesto di grande fiducia di grande speranza se consideriamo il momento storico che stiamo vivendo le difficoltà legate al covid soprattutto il fatto che entriamo in un periodo autunnale e invernale perché l'evento inizia il 18 di settembre e finisce il 5 di dicembre per cui sarà obbligatorio mangiare all'interno dei ristoranti e quindi il green pass diventa non un fatto facoltativo ma un fatto ovviamente obbligatorio però 45 ristoranti aderiscono all'iniziativa quindi è un gesto di fiducia e di successo di questa manifestazione che dopo 38 anni si riconferma veramente molto gradita dai ristoratori ma anche dai consumatori visto che sono già settimane che ci chiedono i libretti e comunque noi invitiamo anche a scaricare dal sito di ConfCommercio e dal sito internet lemarche di Urbino.it Questo appuntamento non ha nemmeno bisogno di presentazione tutti gli anni abbiamo già detto che serve sia per far conoscere la nostra ristorazione ma anche le varie località dell'entroterra che molto spesso la gente non conosce quindi lo dimostra che la 38 edizione non ha più bisogno di presentazione perché è un evento molto molto indovinato. Quest'anno segna veramente un passo di partenza visto anche come è iniziato in questi ultimi tempi un ulteriore aiuto a tutta la ristorazione porterà sicuramente una spinta maggiore per questa ripartenza che finora è stata anche abbastanza difficile. È da anni che noi partecipiamo a questo evento perché è una manifestazione molto importante perché mette al centro il nostro territorio, mette al centro gli operatori che lavorano per valorizzare le nostre eccellenze, le nostre caratteristiche e la nostra è una banca dinamica, una banca aperta è una banca che sta con chi lavora, con chi si impegna, con chi cerca di migliorare si parla tanto in giro dappertutto in ogni occasione di ricominciare, riprendere ritornare al modo di vivere, di lavorare, di operare di un anno fa però la ripartenza, la ripresa non è facile, la ripresa bisogna conquistarla, bisogna incentivarla, bisogna spingerla e allora noi cerchiamo di fare questo, cerchiamo di farlo con le famiglie, con i giovani ma soprattutto cerchiamo di farlo con le imprese che creano lavoro. Sarà intitolato a Gianluca Mattioli il campo da basket di Villa San Martino in attesa che venga completato il restyling, la giunta comunale ha infatti deciso di dedicare all'arbitro pesarese scomparso nel 2017 uno dei playground più storici della città una decisione presa ha fermato l'assessore con delega allo sport del comune di Pesaro, Mila della Dora per rendere maggio ad un protagonista della storia cestistica pesarese, nazionale ed internazionale Ant organizza una nuova iniziativa per sostenere il lavoro della fondazione è infatti in programma per domenica 19 settembre all'Alto Mare Restaurant in strada panoramica 230 a Pesaro un pranzo solidale a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare parte del ricavato sosterrà l'assistenza specialistica gratuita che i medici, gli infermieri e gli psicologi di Ant portano a casa dei malati di tumore della nostra comunità le prenotazioni saranno aperte fino a lunedì 13 settembre e si potranno effettuare contattando il numero 348 26 26 147 oppure inviando una mail a daniela.mengacci.it parliamo ora di eventi perché dal 10 al 12 settembre arriva Piano City tre giornate che avranno come protagonista la musica dei pianoforti su iniziativa del Comune di Pesaro con Amat e con il Conservatorio Rossini un cartellone che propone 16 concerti a tutte le ore della giornata nelle due location predisposte per l'evento il Teatro Sperimentale e l'Ampiteatro del Parco Miralfiore sui palchi si alterneranno artisti di fama internazionale e i giovani talenti del Conservatorio Rossini l'inaugurazione del Festival sarà venerdì 10 settembre all'Ampiteatro del Parco Miralfiore alle ore 20 e 30 maggiori informazioni sul programma completo e sui biglietti sui siti www.pianocitypesaro.it oppure www.teatridipesaro.it e inaugura domani e andrà avanti fino a domenica 5 settembre l'edizione 2021 della festa dell'unità Villa Fastigi l'apertura è fissata quindi per domani alle 18 e 30 nel giardino del Circolo Arci di Villa Fastigi il dibattito d'apertura dal titolo Meglio Legale Cannabis un dibattito aperto sarà introdotto da Andrea Orazzi segretario dei Giovani Democratici Marche e al dibattito interverranno poi Matteo Mainardi membro di giunta dell'associazione Coscioni e Dario Andreolli consigliere comunale della Lega modererà il consigliere comunale di Pesaro Michele Gambini mentre lo spazio espositivo ospiterà la resistenza celebrata a cura di Ampi e sono state selezionate ed annunciate le 8 compagnie finaliste sugli 84 spettacoli candidati che andranno a comporre il cartellone della 74esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica di Pesaro in partenza il prossimo 20 ottobre le interviste sono al direttore artistico del GAD Christian della Chiara e al nuovo presidente dell'associazione Amici della Prosa Maurizio Sebastiani sono tante, sono 84 le compagnie che hanno inviato i propri lavori al Fezio e questo è il primo dato di grande soddisfazione perché a testimonianza di una crescita lenta direi ma inesorabile una ripresa inesorabile dell'attività quindi siamo molto contenti anche se ovviamente tanti lavori ha significato anche tanta fatica da parte della commissione che ringrazio una volta di più la commissione selezionatrice composta oltre che da me da Giuseppe Esposto, Barbara Lorenzi e Ortenzio Rivelli otto gli spettacoli che abbiamo scelto per il concorso più due fuori concorso e piano piano anche le prossime settimane saranno anche quelle in cui annunceremo tutto il programma nella sua completezza del festival ma intanto a contendersi i premi del nostro concorso ci saranno questi fantasmi della compagnia La Piccola Ribalta di Pesaro Ubu Re della compagnia La Satirion Teatro di Leporano Taranto Kraken, favola alla deriva dell'Associazione Culturale Teatro degli Oscuri di Campagna Salerno Smith & Wesson della compagnia Il Grappolo APS di Siena Tre sull'Altalena della compagnia Ronzinante Teatro di Merate Lecco Stravaganza dell'Associazione Culturale Libertamente di Monza la locomotiva dell'Associazione Culturale Il Satiro APS di Treviso ed è di Porè della compagnia Calandra di Tuglie Lecce il programma è completato dalla riproposta del contenitore Vetrina Pesaro, un omaggio all'attività teatrale del territorio lo scorso anno abbiamo presentato alcune delle più significative compagnie del nostro territorio quest'anno abbiamo presentato e dedicato la nostra osservazione privilegiata all'attività pesarese agli autori quindi una serata in cui verranno proposti due monologhi uno al maschile e uno al femminile scritti da un'autrice Giulia Terenze un autore Mauri Incen pesaresi che appunto presenteranno due monologhi in questa insolita formula in cui due spettacoli si sussegueranno all'interno della stessa serata il festival sarà in scena dal 20 al 31 ottobre tutti i giorni al teatro sperimentale a causa dei lavori che coinvolgeranno il teatro Rossini che quindi lo renderanno non disponibile per questa edizione L'impegno di questa presidenza parte con i piedi giusti è un'iniziativa molto importante, è un festival importante anche quest'anno nonostante la pandemia le opere, come ha detto Cristian della Chiara le opere scelte sono di grande qualità di espressione quindi che il festival ancora attira delle compagnie che hanno delle basi solide e delle voglia di primeggiare in campo nazionale questo è un festival nazionale molto importante è conosciuto e quindi ci sono tutte le premesse perché anche quest'anno possa andare bene ovviamente la pandemia che ci ha colpito in questi due anni ci ha parzialmente penalizzati però noi siamo stati abbastanza lungimiranti e forti per poter superare anche questo periodo E anche con l'arrivo del mese di settembre prosegue il cartellone di musica e spettacoli allestito all'arena BCC di Fano venerdì 3 settembre alle ore 21.30 sarà la volta della compagnia Artacan con lo spettacolo è tutto un magna magna con la regia di Cristina Cinotti vediamo le interviste Noi saremo il 3 settembre la nostra commedia si intitola è tutto un magna magna dove abbiamo un sindaco che per attingere i fondi dello spending review costringerà dei poveri vecchietti a tornare di nuovo a scuola però a un certo punto ci sarà un impedimento e quindi non tutti i suoi progetti potranno andare in porto Quindi nei vostri sogni c'è una centinarola comune? Una centinarola comune? Beh perché no perché no perché no dobbiamo lavorarci dobbiamo impegnarci un pochino ma vedrà che intanto mandiamo il messaggio poi vedremo potremo anche candidarci l'unione fa la forza ci candidiamo tutti e tre sarebbe la prima volta che un comune sarebbe diretti da tre sindaci Triplo sindaco perché no? Certo come no vediamo se si può fare intanto Allora da quanto siete insieme? La vostra compagnia da quanto tempo esiste? Eh tra alti e bassi sono una quarantina d'anni Una quarantina d'anni? Quindi Noi abbiamo sempre fatto a livello parrocchiale quindi molto più amatoriale di così si muore e poi ci hanno chiesto la volta scorsa di venire qua ci abbiamo provato e è andata bene quindi proviamo a continuare Perfetto anche perché questa è una manifestazione importante fanno vive anche di questi eventi la BCC Arena è davvero uno spazio straordinario a disposizione della città e non solo di Centinarola Esattamente, è uno spazio a disposizione di tutta la comunità di tutto il comune e anche fuori comune vengono organizzate spesso manifestazioni di diverso genere di diverso tipo che raccolgono una forte partecipazione anche di pubblico perché l'organizzazione è sempre puntuale, precisa e quindi è un piacere partecipare sempre agli eventi che vengono organizzati Piacere è anche un grande orgoglio perché ovviamente questa forma di commedia dialettale nasce veramente dal cuore ed appartiene alle radici della nostra terra Certamente poi noi come gruppo ci divertiamo tanto insieme e la cosa che ci unisce oltre al divertimento è anche la collaborazione cioè il copione non è di uno, è di tutti quindi le idee vengono messe insieme ogni volta che si fanno le prove c'è un cambiamento e quindi in primis ci divertiamo noi quindi speriamo anche di far divertire gli altri E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV questa sera infatti sul canale 633 alle ore 21.15 potrete assistere al saggio intitolato La Divina Commedia della Scuola Evolution Dance Pesaro questa sera quindi in prima serata alle 21.15 e poi vi ricordiamo che su tutti gli store digitali è possibile scaricare la nuova applicazione di Rossini TV potrete rivedere le notizie e i programmi già andati in onda oppure vedere il nostro canale in diretta 24 ore su 24 Vi ricordo inoltre che l'appuntamento con l'informazione su Rossini TV torna puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale un buon proseguimento di serata su Rossini TV Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro canale Grazie per averci seguito in questo film Grazie per averci seguito in questa Something